Sturna in Vesta è una comunità che sente la vicinanza, che è vicina a questa nonnina, che vogliamo tenercela stretta, sappiamo che sta anche bene, questo fa sperare, anche per il futuro. È una comunità, dicevo, in Vesta, l'abbiamo scritto anche sullo striscione, siamo contenti. Quindi vorrei anche dire che Nonna Laurina è stata, ed è per noi, un punto di riferimento, perché Nonna Laurina è stata sempre una persona molto generosa, molto altruista, a disposizione delle persone, della gente, dei cittadini. Questo è molto bello e noi lo vogliamo dire e vogliamo, come dire, custodire questi valori di Nonna Laurina. Nonna Laurina è un monumento vivente, una persona straordinaria, una persona dolcissima, che, come dicevo, ha avuto sempre un'attenzione nei confronti delle persone, delle persone dei più deboli, quelli che avevano necessità, bisogno. Lei era un punto di riferimento. E questa cosa oggi, che è un po' scomparsa, come dire, ci rattrista un po', però avere lei ci conforta e noi vogliamo vivere, vogliamo vivere con il ricordo di questi bei valori. Quanti anni hai, hanno chiesto, quanti anni fai oggi, hai fatto? Come? Quanti anni tieni? Ah! Quanti anni tieni? Non lo so, c'è mica. Grazie.